Cusci, qual è il problema? Un sterzo ti tira tutto storto e tua macchina non la può mettere manco ritta? O quando fai fatica a tenere ritti e tu sanga? In questo caso è tu dentro l'allanvergenza del tuo veicolo. L'è una regolazione fondamentale per la sicurezza e la tenuta da strada della macchina. E per mantenerle come pare. Porta la tua macchina in un centro travestita controlla bene. Ma mi misura tutti gli angoli geometriche, voglio. A così la macchina ti va bella ritta ritta. E tu ripartirai alla grande. Frate, stai senza pensiero.